Filma, hai finta di filmare? Di profilo, Daniel? Ah, siamo salito sul tetto che è una figata. Sul tetto si può camminare tipo Assassin's Creed. Cioè, cammini sul chiesa con questa specie di cupola, come si chiama, di sfere? Cupola. Cupola, che puoi camminare, è fighissima, non lo so se possono, non possono andare tutti, a noi abbiamo fatto entrare una figata, si vede tutta la Guatemala, cioè non tutta la Guatemala, ma tutta la città, da alto, con vulcani, abbiamo fatto il tramonte, spettacolare. Dopodiché, subito inserite nel mercato, sotto c'è un mercato con una roba tipica, odori, odori nuovi, buoni.